Nessuna cerimonia ufficiale ma una festa nel segno della sobrietà, seguendo l'indirizzo del governo. Così l'arma dei carabinieri ha deciso di festeggiare il suo 199esimo anniversario che ricorre il 5 giugno. Una scelta che comunque non ridimensiona l'attività e i risultati soddisfacenti sul territorio che vede i carabinieri impegnati su più fronti, a scopo preventivo e repressivo. Ogni giorno in provincia di Macerata l'arma effettua una media di 59 perquisizioni impegnando 120 militari. Le risorse diminuiscono, sottolinea il colonnello Di Stefano, ma cerchiamo di mantenere lo stesso livello di servizi considerando che l'arma dei carabinieri in provincia di Macerata è presente in 40 comuni su 57 con altrettante stazioni. Nel corso del 2012 vi è stata una riduzione del totale dei delitti consumati pari almeno 8,93% rispetto al 2011 con un trend confermato ampiamente per il primo quadrimestre del 2013, meno 12,21%. Calo anche per le rapine, specie dopo le importanti operazioni realizzate, tra cui quella che ha assicurato alla giustizia una banda di albanesi specializzata che si era infiltrata nel territorio mettendo a segno una serie di colpi. Insieme a reati contro il patrimonio resta alta l'attenzione sulla lotta allo spaccio di stupefacenti, che registra un aumento di consumatori giovanissimi. Proprio per questo si intensifica l'attività di prevenzione nelle scuole a partire dalle medie. Altro dato da tenere d'occhio è la possibile correlazione tra immigrazione e criminalità, poiché molti immigrati dei 32.314 regolari sono a rischio di soccupazione e quindi regolarità. In vista dell'estate l'impegno dell'arma si intensificherà con servizi mirati lungo la costa. Altro dato da segnalare le 76 contravvenzioni effettuate da giugno 2012 ad aprile 2013 per guida e stato di ebrezza. Un dato in aumento e da non sottovalutare per la sicurezza sul territorio.